buongiorno e benvenuti ad ecco tua madre è importante amici che noi cerchiamo di vivere una vita unita a maria una vita che soddisfi gesù portandola nelle nostre case così come è importante che ci rendiamo conto perché dobbiamo avere un amore per maria questo amore dovrebbe essere sia della testa che del cuore un amore diretto sia alla verità che all'affetto per la madre di cristo donataci da lui stesso quindi quando ci poniamo la domanda in che modo maria è nostra madre o perché la chiesa cattolica crede che maria sia la madre spirituale di tutti i popoli dovremmo tornare alle scritture e agli insegnamenti dei grandi padri della chiesa vediamo l'annunciazione in luca 1 28 che come insegna sant'agostino quando maria fa nascere fisicamente cristo il capo del corpo mistico maria fa nascere spiritualmente e misticamente anche tutti i membri del corpo uniti a gesù san pio decimo disse nel 1904 che tutti noi veniamo dal grembo di maria in quanto suoi figli spirituali torniamo quindi all'insegnamento di sant'agostino e gli dice che gesù è un corpo mistico è il capo del corpo e noi siamo i membri del corpo quindi quando maria dà il suo fiat nove mesi dopo fa nascere gesù il capo del corpo ma fa anche nascere in un modo mistico ma reale anche chiunque sia unito a cristo e questo ovviamente raggiunge il suo apice quando andiamo al calvario in giovanni 19 versetti 25 27 qui sul calvario gesù dalla croce dice prima maria donna ecco tuo figlio e poi a giovanni ecco tua madre san giovanni paolo secondo disse tutti i cristiani dovrebbero imitare giovanni il discepolo amato ma cosa fece giovanni prese maria nella sua casa san giovanni paolo secondo ci dice che la casa non è un luogo geografico un posto è primariamente il cuore nel testo greco sta scritto che giovanni prese maria presso di sé in suo possesso quindi se vogliamo diventare discepoli amati come giovanni dobbiamo imitare giovanni come san giovanni paolo secondo ci dice dobbiamo portare maria nelle nostre case nei nostri cuori nelle nostre vite interiori e poi come una brava madre maria potrà pulire organizzare e assicurarsi che il nostro cuore sia focalizzato interamente sul cuore sacro ed eucaristico di gesù cristo ancora una volta se accettiamo il dono di maria datoci dalla croce nessuno sarà più felice di gesù ricordatevi che gesù ci diede questo regalo alla fine della sua sofferenza e questo dovrebbe comunicarci immediatamente l'immenso valore della maternità di maria e quindi quando gesù dice a te a me ecco tua madre egli ci sta offrendo un regalo personale ancora una volta giovanni paolo secondo dice maria e madre di tutta l'umanità ma è anche direttamente tua madre per questo dovresti rivolgerti a lei con la sicurezza e la convinzione che ti è stata data come un regalo diretto e personale di gesù dalla croce questo fatto ci indica il valore di questo regalo è il regalo finale che gesù ti dona e quindi sforziamoci ogni giorno di vivere una vita cristiana con la consapevolezza che non siamo orfani noi abbiamo la madre di gesù per aiutarci durante i tempi difficili durante i tempi di sfida maria conosce ogni difficoltà ogni tua difficoltà familiare lei la conosce come tu la conosci appellati a lei portala nella tua casa portala nelle sfide della tua famiglia così che lei possa mediare le grazie di gesù che solo lei ci può dare in modo tale che indipendentemente dalla circostanza possiamo avere pace e una speranza verso tutto ciò che si presenterà in un modo che soddisfa gesù con l'aiuto di maria grazie per essere stati con noi su ecco tua madre ricordatevi di vivere sempre quella chiamata di gesù di accogliere nel cuore nostra madre in unione con padre pio tenendo maria vicino al nostro cuore grazie e che dio vi benedica grazie a tutti